Persone che veramente si fanno pagare per studiare. Sì. Tram. Nano, nano cap. Quanti bip in questa frase. Ci sono le creme ai peptidi, eh? Le creme tipo ringiovanenti. Quelle... E come penso che la gente possa conoscere i peptidi, perché io li conosco solo così. Io mi occupo di comprare rap e tu ti occupi di aiutare la gente a non ammalare. Uno strumento a casa di quelli che usate? Un NTA. Cos'è un NTA? Interessante, lo manderò alle mie amiche che vogliono fare il dottorato. Benvenuti nel salotto di Genti, il podcast di Thesis4You. Oggi siamo con Francesco. Ciao a tutti. Un dottorando, raga. Non sapevo esistesselo veramente. Esisto. Una specie estinta. Persone che si fanno pagare per studiare. Incredibile. Sì. Più o meno. Più o meno. Più o meno. Esatto. Racconta. Vabbè, dici qualcosa di te. Chi sei? Ho 27 anni. Quindi sono relativamente giovane. Sono in quella fascia di relativamente giovani. Ti sei sentito di sottolinearlo, eh? Sì. Ma perché diventa un topic... Importante. Importante. C'è quella fascia di persone che ci tiene a specificare, no? Che sta invecchiando. E c'è quell'altra fascia invece che dice... No, cazzo. Non sto invecchiando. Esatto. Per me fino ai 25 hai 20 anni. Dai 25 ai 30 ne hai 25. Ok. Allora io ne ho 25. Ok. No, vabbè. In realtà non me ne frega niente. C'ho 27 anni e sono in tra. Sono una persona abbastanza entusiasta delle cose. Quindi qualsiasi cosa nuova che ci sia in realtà da fare sono molto gasato. È la prima volta a questa che faccio un podcast e infatti sono a bomba. Sì, sì. Ti vedo bello carico anche con le camere. Ti acciono? Sì. Non lo so. Lo devo scoprire. Lo scoprirò... Quando farei il tuo podcast. Ok. E dove lo fai il dottorato? E in cosa? Allora faccio il dottorato in scienze farmaceutiche a Milano. Ok. A Statale di Milano. E diciamo che il mio settore principalmente è la nanotecnologia. Quindi in soldoni diciamo che mi occupo di cercare di far fare al farmaco quello che io voglio che il farmaco faccia. Ok. Quindi in particolare faccio nanoparticelle e lavoro con delle cose un po' schifose perché... Tipo? I morti. Eh, più o meno. Diciamo che lavoriamo anche sui tessuti. Comunque sto lavorando sugli occhi. E quindi letteralmente lavori con gli occhi. Con l'esofago e cose un pochino schifose che magari facciamo... Sì. Le lasciamo in... Ok. Sì. No. Da quanto è che lo fai? Quanto dura il dottorato in genere? Uno o due anni? Dipende... No, dura tre anni minimo. Ah, ok. E in Italia. E all'estero dipende, tendenzialmente dura quattro anni. In America può durare cinque, otto anni. Diciamo che ti deve piacere la ricerca. Perché la ricerca è un mondo che ti mette di fronte al fatto di non sapere mai niente. Che ansia. Cioè, è un po' anche il consulente comunque. Cioè, perché comunque facendo consulenza, mi dicevo a un mio amico per esempio, che ti trovi a doverti interfacciare tante volte con degli argomenti di cui non capisci un cavolo di niente, no? E quindi devi fare ricerca, devi studiare. Impari sempre. Sì, devi sempre metterti a confronto col fatto che ci sarà qualcosa che non sai. Sì. Ok? Ed è bellissimo, è veramente mega bello, perché è una delle robe che a me piacciono da morire. Cioè, io adoro studiare, cioè mi piace tantissimo studiare. Conoscere cose. Conoscere, sì. Io vorrei avere, per favore inventatelo, un buchino per un USB qua. Piantare un cavetto e scaricare qualsiasi cosa. Martina, hai sentito? Fondiamola, questo è una nuova idea. No, sì, però mi piace tantissimo e la ricerca ti dà tanto modo di confrontarti con questa roba qua. Certe volte è stressante perché non ti senti, non lo so, mai di padroneggiare veramente qualcosa, non so come dire. Ti senti, sì, bravo, però comunque sempre un po'... Carente in qualcosa. Sì, bravo, esatto. Per qualcuno può essere destabilizzante. Per me è destabilizzante. Beh, la vivi bene comunque. Fino adesso che parli bene e poi è destabilizzante. Sì, non lo so, ti potrebbe confermare il mio psicologo. Ok, come la vivi in realtà. Esatto. Va bene, facciamo una call dopo. Esatto, esatto. Ci riesci a vivere con il dottorato o lavori anche? Allora, in Italia è pagato poco, non pochissimo perché per esempio in Francia e in Portogallo so che è pagato, Francia, Spagna e Portogallo è pagato molto meno. In Spagna per esempio sono 800 euro al mese che è proprio niente. Immagino poi per tutto l'impegno che ci vuole. È un lavoro, cioè tu devi considerare che è un lavoro perché entri là, inizi a lavorare magari alle otto e mezza, nove, finisci alle sei. E il dottorato, così come anche magari la consulenza, sono lavori che non hanno orario. Cioè non c'è nessuno che ti dirà è tardi, devi tornare a casa. Esatto, sono gestori straordinari. Esatto. Soprattutto nel primo anno mi è capitato un botto di lavorare veramente, veramente, veramente tanto perché volevamo raggiungere determinati obiettivi e fare cose e per lo stress ho sofferto l'epilessia poi. Tant'è che adesso applico il concetto contrario. Quindi faccio. Faccio quello che posso fare, mi limito. Appena vedo che sono leggermente epilettico me ne vado. Esatto. Si chiama sopravvivenza comunque, cioè. No, no, però da quel punto di vista diciamo che ho imparato un po' a di, cioè come dire, a salvaguardarmi anche un po', no? E in Italia, per finire il discorso, sono 1.200. Quindi ci vivi, non lo so, dipende. A Milano dipende che affitto hai, sì. Sì. Ma in generale, sì, non è tantissimo, più che altro fai qualcosa di molto utile. Che tipo di progetti ti sei trovato a fare o che hai visto di tuoi colleghi che stavano facendo? Allora, ci sono progetti sicuramente bellissimi e progetti un po' meno belli, magari fatti un po' più perché c'è budget, allora possiamo farli. E sicuramente i progetti portano a casa pubblicazioni tendenzialmente, quindi più progetti sei in grado di gestire meglio è. Ok. La realtà delle cose poi è che i progetti, diciamo, collaterali, quindi magari un po' quelli un po' meno carini, diciamo così, sono anche quelli che vengono un po' abbandonati a se stessi e quindi anche poi la gente che ci lavora magari è un po' più insoddisfatta di altri e non vengono bene tendenzialmente, no? Ci sono progetti su cui ho lavorato molto interessanti, tipo per esempio in Belgio, dove ho fatto un anno lì come exchange student, abbiamo lavorato su delle nanoparticelle che riuscissero ad attraversare l'occhio una volta instillate tramite collirio, no? E se ci pensi è una figata perché ci sono delle terapie ad oggi dove l'unico modo per somministrare un farmaco è fare una siringata, no? Immaginati qualcuno che ti arriva con un siringone e fa nell'occhio lì così non è bello, no? Brutto, sì. Quindi se sei in grado di fare una roba che una volta messa come collirio passa attraverso l'occhio, è molto figo. Ho lavorato con dei mega microscopi da un milione di euro dove vedi il tessuto 3D e tutta la fluorescenza magari della particella che si accumula in determinati strati dell'occhio perché gli hai detto tu che si deve accumulare lì. Quello è molto fico. Che roba strana. Quello è molto molto fico. Poi ci sono progetti a cui ho lavorato invece che sono completamente inutili e insensati. E allora, consigli il dottorato? Diciamo che non mi piace scoraggiare nessuno, però dico che il dottorato è difficile. Eh. Ed è difficile soprattutto perché in Italia devo dire che ha poco valore, ma non in termini di titolo, eh. In termini di come il mondo accademico vede la persona dottorato, dottorando, scusate. Sì. Nel senso che tante università italiane trattano i dottorandi un po' come dei tecnici. Dipende dal gruppo, eh. Dipende dal gruppo di ricerca e puoi essere fortunato di capitare in un bel gruppo, e ne conosco alcuni, dove vieni di fatto trattato come un professionista. Ok. E ti viene chiesto il tuo parere, ti viene data responsabilità sul tuo progetto, ti viene chiesto di fare delle decisioni e portare avanti comunque di tua spontanea volontà, di organizzare magari dei meeting. Considerato come una persona che comunque sta dando un contributo effettivo. Mentre invece ci sono altri gruppi di ricerca che sono un po' più accentratori, no? E quindi non si fidano magari a lasciare nelle mani di una persona X, magari di un ex tesista, no? Ah, li chiamano così? Sì, cioè... I nuovi arrivati... Sì, li chiamano i nuovi arrivati, no? Ok. Lasciare nelle mani di un dottorando un progetto, ok? Su cui magari ho investito, quindi semplicemente io ti dico cosa devi fare e tu lo fai. Quindi un esecutore. E stai pure zitto magari anche. E a me è capitato, perché io ho comunque girato qualche gruppo di ricerca, perché abbiamo lavorato in collaborazione con più di un gruppo. Ho visto anche come funziona all'estero, perché appunto ho lavorato un anno lì. E in Italia devo dire che c'è tanta similarità in termini di come i gruppi di ricerca si interfacciano ai dottorandi rispetto invece all'estero, no? Ok. Cioè nel senso appunto qua in Italia sei molto visto come un ragazzino. All'estero invece un po' più serio. All'estero sei un adulto. In termini, in un certo senso comunque è giustificato, perché comunque fare ricerca è difficile, nel senso che devi considerare tantissime cose. E muoversi in una direzione piuttosto che un'altra significa perdere soldi, perdere tempo, no? Ok, quindi ci vuole un'esperienza. Ci vuole esperienza, è quello sicuro. E la guida di un tutor sicuro è d'aiuto. Ma poi scusa, domanda, io ad esempio domani finisco la magistrale, divento dottorando, cioè ci provo, ok? E anche lì una successiva domanda sarà come lo si diventa, come si fa, cioè c'è una domanda da fare, c'è un, come dire, una selezione, o no? Prima domanda. Seconda domanda, io arrivo lì e mi ritrovo con persone che come me sono ex tesista, tra virgolette, o persone come ad esempio te che hanno già un'esperienza? L'accademia non ha come obiettivo quello di fatturare. Con l'accademia cosa intendi, scusami? L'istituto, ok. L'università non ha come obiettivo quello di fatturare, l'università ha come obiettivo quello di accrescere il proprio prestigio, ok? Mentre invece un'azienda a fine mese vuole aver guadagnato di più di quello che aveva all'inizio, quindi se entra una persona nuova non la lascia lì a fare, boh, a guardare il soffitto così, no? Ma cerca magari in modo anche molto genitoriale di portarla, farla crescere, fargli vedere perché deve produrre quella persona siccome sto investendo dei soldi su di lui. Quindi ai gruppi di ricerca, i gruppi di ricerca non pagano loro stessi per i dottorandi che assumono, anzi vengono pagati. Ok. E quindi diciamo che se il gruppo di ricerca, il tutor, ha interesse a portare avanti il tuo progetto perché il tuo progetto è uno di quei progetti di valore, o su cui magari puntiamo tanto perché è comunque un progetto innovativo e tutto il resto, allora sicuramente vieni seguito. Ok. Magari anche troppo, nel senso che appunto vieni trattato da tecnico. Ok, finisci per non avere una tua autonomia. Esatto. Mentre nel caso contrario può essere che invece finisci un po' nella cerchia di quelle persone un po' abbandonate che girano il laboratorio così e non sanno bene cosa o dove fare le cose eccetera eccetera, no? Ed è una cosa un po' triste. Quindi dipende in poche parole dai progetti che capitano? Dipende dai progetti, dipende dai gruppi. Sì, io quello che consiglio quando tu mi chiedi, consiglieresti di fare il dottorato, dico è difficile fare il dottorato, però è bellissimo fare ricerca. Cioè io penso che studierei e farei ricerca e basta nella mia vita. E beh, voglio dire, dice parecchio no? Sì, però qua in Italia secondo me siamo un po' anche noi afflitti indirettamente da quella visione, cioè da quel essere visti come dei dottorani, dei ragazzini. Cioè è come una cosa negativa. Sì, siamo un po' ingenui in quel senso lì, nel senso che all'estero magari, o almeno in Belgio dove sono stato io, la gente magari è già un po' più sgamata, un po' più indipendente, cioè va a vedere, si dà valore come professionista e si vende meglio magari di tanti ragazzi che vedo entrare e non si valorizzano loro stessi, capito? E quindi appena sembra che qualcuno gli stia dando un'opportunità, ci si gettano, no? Senza valutare invece che magari è un gruppo di ricerca che non ha valore o che è un gruppo di ricerca che sottostima la professionalità della persona, no? Tipo per esempio un gruppo di ricerca che ti tratta come un tecnico, dove tu invece hai come scopo durante il tuo dottorato di diventare indipendente, capace di gestire un progetto di ricerca, capito? Però non riesco bene a capire questa cosa, cioè tu sei un dottorando nel momento in cui hai un progetto o sei affiancato o sei inserito in un gruppo? Essere un dottorando significa essere in formazione per fare il ricercatore a tempo principalmente determinato, ok? Perché dopo un dottorando se rimani in ambito accademico diventi un postdoc che è ricercatore a tempo determinato per l'università. Ah, ok. Ok. Quindi il dottorando è la persona che fa questo tipo di formazione. Si prepara per diventare ricercatore all'università? Non necessariamente. Diciamo che puoi fare... Adesso anche tante aziende comunque richiedono il dottorato per fare... Per lavorare in R&D per esempio, aziende farmaceutiche. Mentre prima il farmaceutico, l'R&D ci lavoravano anche magari dei laureati, piuttosto che oggi richiedono anche il dottorato. Ok. Quindi comunque il dottorando di oggi quando esce dal dottorato può decidere se andare a lavorare in università o in azienda. Prima il dottorato era qualcosa per... prevalentemente per rimanere in ambito accademico. Ok, invece adesso anche in aziende. Sì. Come... cioè quando hai deciso che era quella la strada che volevi fare? Ecco, questa è una domanda che si affianca tanto alla risposta che stavo cercando di dare prima, che è... che la mia è stata una scelta un po' ingenua. Ecco. Perché? Perché non l'ho cercato. No? Mi si è... No, però mi si è presentata... Chiamiamola un'opportunità, no? Perché appunto quello che stavo cercando di dire prima era... Cercate, cioè indagate, fate ricerca su... Vado a fare il dottorato, vado a vedere quel gruppo, cosa fa, cosa non fa... Chiedo ai vari tizi, ti trovi bene, non ti trovi bene, che progetti ci sono... E di darsi valore. Io tutto questo non l'ho fatto, cioè nel senso... Io ero tesista in un gruppo di ricerca e... Dovevo durante quella tesi là andare a fare un Erasmus in Norvegia. C'è stato il Covid, avevo il volo il 18 di marzo e mi è stato cancellato il 15 marzo. Quindi ero distrutto, sono andato... Tra l'altro per un mese ero andato a lavorare da solo in laboratorio perché non si poteva uscire più perché era zona rossa e... Però per prepararmi comunque mi facevano andare lì, lavoravo da solo. Sono andato in bagno a piangere. No! Perché sono rimasto mega male. E quindi mi è rimasta sta cosa di andare all'estero e quindi mi hanno proposto a posteriori poi sto dottorato con la cosa di dirmi se vuoi poi possiamo organizzare anche un periodo all'estero. Quindi ho detto... Va bene. Vabbè, ci sta, no? E quindi vabbè ho cominciato così, però non mi sono fatto troppe domande, capito? Hai cominciato? Sì, però anche io mi vedevo un po' come un ragazzino, capito? Ok. Vabbè, ci può stare. Ci sta, ci sta. Nel momento in cui prendi consapevolezza dai anche un valore diverso a quello che stai facendo forse. Sì, no, assolutamente, assolutamente. Però quello che dico io è che secondo me in Italia siamo abituati tanto a considerarci come dei ragazzini che... Tutti. Sì, però è bello, cioè è una cosa bella, cioè rimanere comunque attaccati alla propria, chiamiamola, adolescenza, no? Sì. Ha una visione un po' più adolescenziale, non necessariamente... Non ancora del lavoratore... Sì, proiettato, ho capito, chissà dove, no? In modo un po' più ingenuo. È una cosa mega bella che io cerco di coltivare sempre, però ritengo posteriori che poi sia importante anche cercare di darsi valore e non necessariamente farsi spaventare magari anche da un nome su una porta, capito? Ho capito. Professor, ma chi se ne frega? Cioè io ho valore come professionista, no? Sì, anche perché insomma ad una persona come me che non sa nulla, a parte quando in generale uno di noi parla di quello che fa a qualcun altro che non ne sa niente, non so come dire, fa sempre l'effetto di star facendo una cosa figa, ok? Sì. Però effettivamente insomma un dottorando che studia nanoparticelle, è così, no? Nel settore farmaceutico? Sì. Ok. Boh, nel senso, va bene, sei ancora in università, tra virgolette, però è una roba che deve avere il suo valore, cioè a un certo punto non hai neanche più 17 anni, capito? Sì. Cioè hai quell'età in cui sì, sei uno studente, sì sei giovane, però non è, non stai facendo una cazzata, quindi ci sta, perché ad esempio delle mie amiche vorrebbero fare il dottorando, il dottorato, ma hanno, non paura, però c'è sempre questa idea di essere visti come degli studenti che non hanno mai effettivamente lasciato quella vita da studente, è un forse vero, ma penso che ci sia anche tanto valore aggiunto. Per farti vedere bene il confronto che c'è tra quello che è qua e come magari viene visto principalmente in Belgio perché ho visto quel mondo là, qua sono stato molto tecnico il primo anno, quando sono andato in Belgio invece mi è stato, sono stato sconvolto perché mi è stato dato in mano proprio il progetto. Ok. Ero, cioè non sapevo da dove partire perché non ero abituato. Eh, domanda, ma cioè pensi che vada bene a tutti? Perché per esempio ci sono persone magari che sì vogliono fare quello, ma magari non hanno l'ambizione di gestire, magari si fanno anche un po' spaventare da questa cosa e forse era anche giusto che il primo anno tu facessi quello? Domanda. Sì, allora sicuramente quando poi ho preso in mano il progetto ho lavorato sulla falsariga di quello che avevamo fatto durante il primo anno, ho aggiunto poi delle cose mie, no? Sì, sì. Però chiaramente sì mi ha aiutato fare quel periodo da tecnico nel primo anno. Si ha preparato. Però il dottorato è questo, cioè hai capito? Fare il dottorato significa avere la capacità di gestire un progetto. Cioè vuol dire che se tu vieni da me, anzi meglio, se io vengo da te a chiederti Celeste come facciamo sta cosa, tu mi dici la facciamo così passando qua, qua, qua e qua, ok? Perché non necessariamente perché lo sai, ma perché sulla base della tua esperienza e boh e del tuo istinto anche che sviluppi, mi dici penso che potrebbe andare bene. Poi magari è il 90% delle volte va a scatafascio, però è così. Ok. Perché se no... Quindi è un tentare. Sì. Il ricercatore proprio cerca di trovare il modo giusto per ricercare, fondamentalmente. Sì, sì, sì. Sì, sulla base di quello che ti senti tu. E poi, scusami, quando sono tornato, che ero diventato, sono diventato indipendente, cioè ero diventato indipendente, mi gestivo tutto, c'era un problema da gestire e io... Nel gruppo in Italia. Nel gruppo in Italia e io che ero tornato molto propositivo, avevo fatto un po' di ricerche e avevo proposto una mia soluzione. Mi è stato detto di abbassare la cresta. Quindi capisci qual è la differenza. Sì. Quindi non era solo una questione di dobbiamo prepararti, è proprio una questione di devi abbassare la cresta. Sì. Ed è un po' triste, non è sempre così, dipende tanto dal gruppo, però proprio per questo dico, per chi vuole fare il dottorato in Italia, di indagare. Su dove andare. Su dove andare e anche di darsi valore, perché è importante che uno impari a darsi valore, non necessariamente solo nel lavoro, ma anche proprio nella vita. Sì, sì, uscire dalla comfort zone, mettersi alla prova e dire potrei farcela. Sì, sì, ma anche avere autostima, cioè avere fiducia in se stessi e non farsi spaventare necessariamente appunto da una sfida o anche da un nome. Ma cioè perché avete... cioè sei professore, in che senso? Cioè prima parlavi della... No, no, perché tipo per esempio tu, no? Devi andare a parlare con la persona X. Mettiamo caso che Martina fosse una persona più... non lo so, anche lei accentratrice, molto... non lo so, sì, oligarca, cioè non so, una persona che dice... Sì, che non mi faceva decidere niente dei colori, delle poltrone. Esatto, esatto, no? O magari anche il... Che il Twinings e compagnia, no? Compra il tè, disgustoso, metti che è una... Esatto, metti che è una così. Un'autoritaria del genere. No? E metti caso che ha un ufficio con scritto direttrice Martina Spinoni. E tu dici, che cazzo! Che paura! Capito? Ah, quindi tu dici di non farsi spaventare dei titoli degli altri. Sì, se tu sei convinto che una tua idea ha valore... Andare a dirlo. Sì, cioè, non è che perché c'è scritto direttrice che ha valutato... Allora non ti cazzo. Non sono nessuno, no! Ok, prova! Tu sei stato assunto perché sei un professionista, hai un'idea, hai fiducia nella tua idea, apri la porta e dici, senti, io ti devo dire X, capito? E poi abbassa la cresta. E poi ti dicono, abbassa la cresta e piangi, esatto. Vabbè. Sì. Allora io so che i dottorandi seguono i tesisti, delle magistrali credo, o comunque del... Triennali no? Anche triennali. Anche triennali. Ti sei mai trovato a farlo? Sì, sì, più di una volta ho avuto un... ho avuto quattro tesisti che ho seguito. Quest'ultimo anno ne ho mezza seguita una, perché vabbè, comunque con la tesi e tutto, che devo scrivere e tutto il resto... Ok, c'è già la tua. Sì, no, cioè non riuscivo a starci dietro più che altro, però è stato bello portare avanti il progetto di due... una ragazza e di un ragazzo, che ho visto proprio dall'inizio fino alla fine, è stato proprio figo perché avevamo... lavoravamo tutti insieme in realtà su alcuni rami collaterali del mio progetto che si basa su peptidi, proteine, ok? E loro lavoravano sui rami collaterali a questa roba qua. Poi alla fine ci eravamo dati un nome e ci chiamavamo il pepto team e avevamo le tazze uguali. Ah, cioè professional quindi? Sì, sì, sì. Quando è una tazza è professionale. Cioè avevamo le tazze con le varie proteine, la struttura tridimensionale delle varie proteine sulle quali lavoravamo. E' un altro livello di nerd. Con le nostre facce stampate sopra e sotto ho scritto pepto team ed era bellissimo. Com'è una giornata tipo da dottorando? Cioè avete tempo libero, mi hai detto che stavi impazzendo, quindi devi trovarcelo? Sì. Ok. Sì, sì, sì. Nessuno ti dice di andare a casa, quindi te la devi costruire un po' tu il tempo libero e devi un po' lottare magari dicendo No! No! Io me ne vado! Esatto. No, esattamente così, cioè non c'è la idea. Ok. Tu devi uscire da dietro un po' lottare. No! Sì, sì. Solo così te ne puoi andare. Sì, no, no, sì. Alcune volte magari vai a lavoro per le nove, alcune volte devi andare prima, mi è capitato di andare anche delle domeniche alle otto, per dire. In Belgio lavoravo dalle dieci fino alle due di notte. Dieci del mattino? No, dalle dieci di sera. Ah, ok. Dalle dieci di sera fino alle due di notte a fare i turni al microscopio da solo in una stanza che faceva buuuuuh. Ma cioè? Che sensi turni? Da vedetta? Ad una cellula? No, però magari dovevo fare delle analisi che ci mettevano un botto e dovevo stare lì in laboratorio ad aspettare che finisse l'analisi per poi far partire l'altra e quindi stavo lì fino alle due di notte, mi mettevo la musica e ballavo. Cioè no, scusami, tra un po' il mio telefono mi cucina la pasta e non c'è un meccanismo che toglie una cosa e fa partire la nuova analisi? Dipende. Allora sì, per alcune analisi sì, per altre no, cioè se devo proprio cambiare il campione. Fisicamente. Sì, perché tipo per il microscopio funziona che cambi, devi rimettere il fuoco, devi rimpostare il setting e le cose e poi fai partire l'analisi e quindi no, non c'è. Però, quindi vabbè, non c'è una routine. Però è una cosa, cioè, positiva anche. È una cosa in realtà positiva e un po' negativa perché da una parte non hai, non lo so come dire, cioè, non hai la routine, no? Sì, ci sono tante persone che sono molto comode e si sentono molto al sicuro con la routine. Sì, ma infatti il pro e il contro è che non hai la routine. Quindi da una parte non hai la routine, dall'altra parte non hai la routine. Esatto, esatto. Il suo pro e il suo contro. Esattamente, esattamente, sì. Capito. Allora, sono uscite cose interessanti. Grazie per essere venuto qua. Grazie a te. Per la tua testimonianza. Grazie a voi, anzi. Bene, possiamo salutare. Ciao. Ciao. Alla prossima.